Benvenuti o bentrovati in questo nuovo episodio del podcast. Io sono Lorena Guerra, musicoterapeuta, istruttore mindfulness ed oggi voglio condividere con voi l'argomento oggetto della mia tesi che mi ha portato al titolo di musicoterapeuta ormai nel lontano 2014. Manca infatti all'incirca un mese al momento in cui nella scuola di musicoterapia di Assisi si terranno anche quest'anno insomma come accade nei mesi anche di novembre e marzo le tesi di tutti quei ragazzi che sono arrivati al termine del loro percorso e mi sono accorta ripensando che non ho mai condiviso il tema oggetto del mio lavoro quindi voglio partire con voi dal titolo della mia tesi che era appunto e lo leggo perché ce l'ho sotto mano micropoligeria la musicoterapia come mezzo per ordinare l'interiorità e l'esteriorità della persona. Il mio relatore è stato il professor Maurizio Spacazzocchi. Vedremo quindi insieme brevemente di cosa si tratta nello specifico quando si parla di micropoligeria, quali malformazioni cerebrali comporta e quali sono le possibili cause della stessa. Accenneremo anche all'epilessia associata alla micropoligeria e poi andremo avanti parlando dell'anamnesi musicale, dell'osservazione e valutazione nel caso specifico del bimbo in esame che chiameremo Matteo, nome di fantasia in ottemperanza alla legge sulla privacy. Vedremo quale setting è stato preparato per Matteo e in breve il nostro percorso attraverso la musicoterapia. Posso dirvi che era un caldo pomeriggio del settembre del 2011 quando la mamma di Matteo si reca da me con la volontà di chiedermi informazioni sulla possibilità di trovare un insegnante di percussioni per il bambino che mi dice avere una disabilità ma essere molto attratto dalla musica. Evidentemente la stessa era conoscenza della mia preparazione come docente ma fino a quel momento non sapeva ancora il percorso che stavo effettuando in ambito di musicoterapia. Ero ancora una studentessa e stavo svolgendo il mio tirocinio. Ho pensato infatti a quante difficoltà avrebbe potuto magari incontrare Matteo in una scuola di musica. Ho colto immediatamente il fatto che il desiderio della mamma era quello sostanzialmente di regalare momenti di serenità ad un figlio sempre occupato tra impegni scolastici e di terapia per ovviare alle sue difficoltà fisiche e cognitive. Per tale ragione non ho esitato a proporre sin da subito un altro possibile percorso da intraprendere con Matteo al quale è stata riscontrata la nascita una micropoligeria unilaterale a carico dell'emisfero destro dell'encefalo che comportava una emiplegia nell'emilato sinistro del corpo e difficoltà cognitive. Proprio da tale proposta che i genitori accoglieranno sin da subito incuriositi e fiduciosi ha avuto inizio il mio primo viaggio attraverso la musicoterapia in compagnia di questo bimbo davvero meraviglioso. E sin da subito si è mostrata l'esigenza di dare alla famiglia molte informazioni riguardo questa disciplina. Il mio compito è stato subito quello di condurli pian piano alla scoperta di ciò che questa interessante materia prevede. Ho spiegato infatti loro come sarebbe stato giusto programmare le sedute nel nostro caso a cadenza settimanale come si sarebbero svolti gli incontri quali risultati potevamo verosimilmente raggiungere in base agli obiettivi inizialmente prefissati. Ho poi spiegato loro che questo sarebbe stato con molta probabilità un viaggio lungo da effettuare assieme che avrebbe richiesto con partecipazione fiducia pazienza da parte di tutti e che avrebbe previsto anche dei confronti con le altre figure professionali di riferimento del bambino data l'importanza che riveste il lavoro di chi. E devo dire che ho trovato in questi due genitori una grande disponibilità ad accogliere questa disciplina, ad accogliere me come giovanissima professionista ancora in fase di tirocinio con grande fiducia. Davvero è stato questo uno dei motori che ha reso possibile un percorso di valore che ancora tengo stretto e conservato nel mio cuore per i ricordi emotivamente caldi e anche per gli obiettivi via via raggiunti. Vediamo quindi per iniziare le malformazioni cerebrali e le possibili cause della micropoligeria. Possiamo dire che si definiscono malformazioni cerebrali le anomalie morfologiche strutturali conseguenti ad eventi verificatesi durante il processo di sviluppo embriologico che possono andare ad interessare sia le strutture della corteccia cerebrale, dei nuclei cerebrali profondi, della sostanza bianca sottocorticale, del corpo calloso, del cervelletto e del tronco cerebrale. Importante in questo ambito è ricordare che dal punto di vista embriologico la maggior parte di tali strutture cerebrali si sviluppa durante lo stesso periodo di tempo e proprio per tale ragione gli eventi patogenetici che sono causa di malformazioni cerebrali possono andare ad interessare talvolta diverse delle suddette strutture. La formazione del sistema nervoso è infatti un processo molto complesso che richiede tempi di attuazione lunghi giungendo per quanto concerne alcune malformazioni ad un completamento definitivo anche dopo molti anni dalla nascita del bambino. Possiamo quindi definire questa evoluzione come molto sensibile ad eventuali interferenze date da fattori diversi durante le varie fasi di sviluppo. A sostegno di tutto questo studi epidemiologici dimostrano come il 30-40% degli aborti spontanei precoci siano quantomeno associabili a malformazioni fetali di cui quelle che interessano il sistema nervoso sono circa il 25%. Tali interferenze sembrano essere dovute a informazioni genetiche errate o talvolta derivanti da problematiche causate da fattori esterni o ambientali che si sono presentate in un processo di sviluppo inizialmente ordinato e caratterizzato da informazioni corrette dal punto di vista genetico. E' inoltre importante ricordare che qualunque anomalia che inibisca la proliferazione neuronale o gliale, la migrazione neuronale o le fasi di organizzazione corticale può essere responsabile di malformazioni dello sviluppo corticale. Oppure la causa può essere adebitata ad eventi patologici come infezioni, processi schemici. Possono inoltre essere responsabili di tali anomalie le tossine esogene introdotte appunto dall'esterno magari attraverso farmaci, sostanze medicamentose di ogni genere o talvolta alcol, assunti dalla gestante. Però è stato talvolta riscontrato che anche tossine endogene prodotte da processi metabolici alterati possono in qualche caso andare ad interferire nelle tappe che concorrono al corretto processo di sviluppo della corteccia. Ad oggi quindi le malformazioni dello sviluppo corticale vengono suddivise in tre principali categorie che sono state definite in base alla fase dello sviluppo embriologico durante la quale agito una possibile noxapatogena, ovvero la proliferazione dei precursori, quindi le cellule staminali, neuronali o gliali. Due, la migrazione neuronale. Oppure tre, la fase tardiva di migrazione e organizzazione della corteccia. Quindi concentrandoci sulle malformazioni dovute ad anomalie del processo di migrazione neuronale è possibile evidenziare come alla fine della fase di proliferazione neuronale milioni di neuroblasti inizi nel loro processo di migrazione lungo le fibre radiali di glia dalla regione ventricolare a quella corticale. È in quest'ambito che si evidenzia la relina, una molecola particolarmente importante nel processo di migrazione, avendo essa la capacità di favorire il fenomeno di adesione dei neuroni alle fibre di glia. Non meno importanti però in questo meccanismo sono i microtuboli, ovvero elementi citoscheletrici che danno ugualmente supporto al processo sottetto. Come si può ben capire, dalla complessità di tali meccanismi e gli eventuali difetti in una di queste fasi provocherebbero l'insorgere di un possibile ritardo mentale o di epilessia nell'infanzia. Date queste premesse possiamo ora capire come patogeneticamente sembra dimostrato, dato che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, che la patologia esaminata in questa occasione, quindi la micropoligeria, sia dovuta proprio ad un disturbo dell'ultima fase di migrazione neuronale detta migrazione neuronale tardiva. In questa fase quindi che cosa accade? Che i neuroni raggiungerebbero la corteccia cerebrale in modo anomalo dopo il regolare susseguirsi delle prime due fasi del processo di migrazione. In quest'ultima parte del processo infatti si andranno a formare molte più circonvoluzioni del normale e tutte di aspetto più piccolo in confronto alla norma. Ciò comporterà di conseguenza un'alterazione della formazione dei solchi originando quindi molti e piccoli giri cerebrali. Proprio da tale anomalia deriva il nome della patologia in questione. Micro, più piccoli, poli, maggiori in numero, giria, giri cerebrali. Per definizione quindi la micropoligeria costituisce un difetto dell'organizzazione corticale con anomala laminazione caratterizzata dalla presenza di numerose piccole circonvoluzioni separate da solchi allargati e poco profondi. Di tale patologia sono descritte sia forme unilaterali come la micropoligeria emisferica e la micropoligeria perisilviana sia forme bilaterali. La sintomatologia di questa patologia e la gravità dipende dal grado di displasia e dall'estensione delle lesioni. A tal proposito dobbiamo evidenziare che nella maggior parte dei casi si presenta un danno neurologico grave con deficit neurologici multipli associato sovente ad epilessia e ritardo mentale. Nelle forme unilaterali di tale patologia si possono riscontrare, stando sempre alla maggioranza dei casi, emiparesispastica che interessa soprattutto le estremità superiori, un ritardo mentale variabile a seconda dei casi e convulsioni. Da specificare poi il fatto che il quadro clinico effettivo è dettato dall'estensione e dalla sede della micropoligeria come detto poc'anzi. Da ricordare però che la maggior parte dei quadri sindromici sono associabili a micropoligeria bilaterale. Essa infatti può essere generalizzata ovvero diffusa tutta la corteccia cerebrale anche se abitualmente risulta più evidente nella regione perisilviana e clinicamente può comportare un ritardo motorio cognitivo associato ad una emiparesi o quadriparesispastica e convulsioni. Spesso in queste forme si possono anche evidenziare malformazioni quali macrocefalia, orecchie a basso impianto, macrostomia, ipotiroidismo e sordità di tipo neurosensoriale. Ma entriamo nella stanza di musicoterapia. Il bambino è stato accolto da me con un canto di saluto che andava a pronunciare sia il mio nome che il suo accompagnato dal ritmo di uno jambe. E da un'analisi globale che vi faccio ora come sunto dei primi quattro incontri di musicoterapia posso dirvi che il bambino è passato da un'iniziale inibizione che lo portava ad attendere continue consegne da parte mia alla capacità via via di occupare di utilizzare lo spazio a sua disposizione e gli oggetti presenti nel contesto in maniera totalmente libera. Se infatti inizialmente si limitava a star seduto accanto alla tastiera posta a terra per tutta la durata dell'incontro chiedendo a me il più delle volte di passare a lui gli strumenti che desiderava indicandoli solo con la mano già dal terzo quarto incontro Matteo ha iniziato a muoversi con maggiore libertà nello spazio decidendo autonomamente quali strumenti andare ad esplorare. Abbiamo sicuramente ritenuto valido questo percorso di supporto nel caso in esame considerando anche l'interesse del grado di partecipazione via via crescente del bambino. Gli obiettivi basilari di tale percorso sono stati innanzitutto lo sviluppo di una relazione di fiducia tra bambino e musicoterapeuta elemento imprescindibile per la costruzione e prosecuzione di un percorso di valore, la facilitazione attraverso l'uso di strumenti musicali di un utilizzo maggiormente armonico degli arti superiori ed infine lo sviluppo di una capacità imitativa nonché delle doti propositive del bambino sempre mediante l'utilizzo del canale sonoro musicale. Fisioterapista e logopedista riferiscono in un resoconto un livello intellettivo molto basso del bambino così come bassissimi sono i livelli di attenzione e la capacità di comprendere e trattenere le indicazioni date riferiscono un eloquio povero e difficile da evocare, la facile distraibilità del piccolo accompagnato il tutto da una labile memoria, addirittura nel referto viene dato per scontato che i progressi saranno minimi ed ottenibili in tempi molto lunghi attraverso un condizionamento ripetuto. Personalmente nel primo ciclo di 12 incontri ho sin da subito cercato di perseguire lo sviluppo anzitutto di una relazione di fiducia tra me e Matteo, questo è avvenuto inizialmente soprattutto tramite l'impiego di brani che fossero parte integrante della biografia sonoro musicale del bambino i quali mi sono stati suggeriti proprio dalla mamma del piccolo nell'incontro di anamnesi che abbiamo fatto proprio prima dell'inizio degli incontri preliminari di valutazione. Ho cercato inoltre di alternare con Matteo attività che da un lato rafforzassero il nostro rapporto di fiducia attraverso anche un atteggiamento sempre volto all'ascolto e all'accoglimento di eventuali sue piccole proposte che effettuava ma dall'altro anche cercato di rafforzare alcuni dei punti fondamentali che avevamo posto come obiettivi assieme alla famiglia e agli altri professionisti quale ad esempio il potenziamento della capacità imitativa fra le parti nell'accompagnamento ritmico dei suoi brani del cuore nonché la facilitazione del movimento armonico del corpo sempre sulla base dei nostri brani musicali sino a condividere questo avverrà in un incontro in cui Matteo stanco al termine della seduta si stenderà a terra un momento in cui con la finestra aperta ascoltavamo il suono tranquillo e rilassante della pioggia in questo momento di grande tranquillità di silenzio anche se vogliamo di ascolto lui fa uscire dalla sua bocca un'intima confidenza e mi dice io spaccherei Lorena tutta la scuola ecco questo tema sarà davvero centrale nel nostro percorso su di esso infatti lavoreremo molto nel corso di numerosi incontri successivi proprio nell'ottavo incontro infatti Matteo giunge nella stanza di musicoterapia e qui vi racconto un piccolo spaccato portandomi un quaderno in questa seduta dopo il consueto canto di saluto iniziale la richiesta solita anche questa di ascoltare uno dei suoi brani prediletti inizierà ad accompagnare il ritmo dello stesso brano suonandolo jambè in maniera molto intensa ecco questo suo atteggiamento l'uso di un tono di voce particolarmente alto nel cercare di pronunciare con le parole del brano che a tratti diventava tendenzialmente aggressivo ecco per la prima volta utilizzato in tale contesto ha dato a me modo di pensare che il piccolo avesse davvero in quell'incontro un senso di rabbia che a suo modo attraverso il musicale tentava di rendere esplicita e manifesta i seguiti infatti continuando a cantare colpirà molto forte ancora la pelle del tamburo che era posto al centro della stanza e dopo pochi attimi andrà a prendere e porterà con sé il quaderno che aveva appunto voluto introdurre nella stanza dicendomi facciamo questo ti passo i colori io ti faccio il tratteggio e te colori colora e attenta a non uscire poi di seguito guarda questa è una x te la metto perché hai sbagliato male malissimo ti metto una nota ecco dopo questo momento che mi ha fatto particolarmente riflettere il bimbo terminerà il nostro incontro l'incontro di quel giorno ancora una volta disteso a terra quasi per far defluire tutta quell'energia e quella carica che si era espressa poc'anzi indubbiamente le sedute settimanali di musicoterapia rappresentano per Matteo anche un contesto in cui potersi esprimere liberamente pur essendo nello stesso tempo contenuto nei suoi teggiamenti le sue manifestazioni da una guida che cerca di cogliere quelli che sono i suoi bisogni o le sue necessità tali comportamenti solitamente vengono espresse attraverso un gioco un gioco che va a far emergere tutte quelle sensazioni o emozioni vissute nel contesto sociale quotidiano che scaturiscono quindi e si elaborano proprio a partire dal mediatore sonoro musicale sia esso una musica di sottofondo che magari alimenta l'azione o uno strumento che diventa simbolicamente qualcosa di diverso da ciò che in realtà e che implicitamente va ad incentivare tutti quei giochi simbolici che andremo quindi a vedere pian piano ad esempio nel gioco che lui definisce dell'insegnante dell'allievo in cui Matteo ricalca sempre la figura di questo maestro mentre io sono immancabilmente una sua alunna ben poco meritevole di elogi ecco secondo l'ottica del piccolo nasce spontaneamente senza alcun invito da parte mia ed è sempre accompagnato da una sua musica di sottofondo una musica gradita al bambino in queste circostanze come avete potuto comprendere lui si mostra molto direttivo invitandomi ad occupare una precisa posizione nella stanza ad eseguire i suoi esercizi come colorare dentro uno spazio preciso ripassare alcune parole tratteggiate lavoro che di fatto svolge proprio durante le ore di lezione in classe seguito dall'insegnante di sostegno e al termine del mio compito lui correggerà il tutto come di consueto ma sarà proprio alla fine di uno di questi giochi in un momento ecco particolarmente significativo che il piccolo si esprimerà dicendo che il mio operato andava male se non malissimo e che mi avrebbe messo una nota la quale doveva essere vista da mia madre e firmata è facile intuire come il bambino attraverso il gioco tendesse a riversare sulla mia persona atteggiamenti che andava a ricevere in altri contesti sociali nel corso della giornata la scuola in questo caso e a sottolineare implicitamente i momenti che più lo avevano colpito dal punto di vista emotivo fin da subito quindi la stanza di musicoterapia ha avuto ruolo di porto sicuro per il bambino un luogo lontano dalla famiglia in cui poter parlare liberamente in un clima di ascolto e di accoglimento con la certezza anche che i genitori non avrebbero mai sentito e quindi non andassero a provare uno stato di sofferenza ecco sulla base proprio di queste frustrazioni che il bimbo andava ad esternare Matteo infatti si dimostra nonostante la sua teneretà molto sensibile e frequentemente preoccupato per la sofferenza che l'amato il padre avrebbero potuto provare dall'ascolto di suoi racconti che quindi vengono taciuti dal bambino nell'ambiente di casa così che quello di musicoterapia era veramente divenuto un luogo in cui non solo era possibile rifugiarsi per qualche tempo sfuggendo le difficoltà che il contesto sociale proponeva lui ma era divenuto uno spazio dal quale partire attraverso l'immaginazione lasciarsi trasportare in altri luoghi quali appunto la scuola per riviverne le situazioni le sensazioni talvolta le difficoltà e rielaborarle conseguentemente anche grazie all'ascolto al sostegno al contenimento che questo contesto prevede cercando di riassumere posso dirvi che dopo diversi mesi di lavoro con il bambino e in un incontro avuto con la neuropsichiatra infantile che seguiva all'epoca il piccolo e alla quale ho spiegato il mio percorso i miei obiettivi ricevendo una conferma in merito alla validità della musicoterapia nel caso di Matteo definendo la direttura all'epoca quella chiave giusta per aprire la sua mente così ricordo le parole della neuropsichiatra infantile abbiamo valutato come un intervento di tipo attivo iniziato nel settembre 2011 in cui il bambino dalla disamina dei primi incontri preliminari ed alcune seduce successive si mostrava ben poco propositivo privo di un'autonoma gestione dello spazio privo di capacità imitative di sincronizzazione ritmica abbiamo invece visto come la pratica musicale ci abbia permesso di sviluppare attenzione capacità di interazione fra le parti andando a coordinare i nostri movimenti e anche alla ritmicità del musicale stesso nel nostro caso infatti è stato possibile attraverso attività in parte da me strutturate in parte nate anche spontaneamente dal piccolo con l'utilizzo di oggetti facilitatori conturre il bambino a un ordine maggiore che partisse dall'interiorità e si rivolgesse all'esteriorità se dal punto di vista ritmico sincronico per quanto riguarda la coordinazione proprio gesto motoria ma anche per quanto riguarda il comparto delle emozioni quindi la capacità di elaborare ciò che accadeva all'esterno di sé all'interno ecco nel suo mondo interiore con la guida chiaramente di un terapeuta fondamentale è stata poi la stabilità nel tempo e l'esportabilità al di fuori del contesto di musicoterapia di tutte quelle acquisizioni che il bambino aveva fatto proprie perseguendo un numero magari non elevato di obiettivi ma che gli stessi fossero consolidati nel tempo perché ritenuti di notevole rilevanza mirando ad un'acquisizione sicura e a raggiungimento quindi di un'autonomia totale nei piccoli ambiti su cui appunto si è andati a lavorare in questo frangente di tempo attraverso il racconto breve chiaramente di un percorso che meriterebbe molto più spazio per descriverne le singole attività e di progressi diciamo nel del bambino nello specifico anzi se vuoi saperne di più magari scrivimelo nei commenti sarò felice di effettuare un approfondimento a questa trattazione ecco sicuramente si è comunque andati a dimostrare come la musica a partire da una richiesta di una mamma che andava a tendere verso l'apprendimento ecco di questa disciplina di quest'arte possa in realtà essere utilizzata per scopi altri quindi aprire canali comunicativi di relazione migliorare le abilità già presenti nella persona o far sì che la stessa ne acquisisca di nuove in questo caso maggiore attenzione concentrazione maggior capacità di coordinazione del corpo ricordiamo investito da hemiplegia e per un suo utilizzo armonico e nell'accompagnamento dei brani strumentali proposti ma non solo la musica facilita anche l'espressione la condivisione la regolazione di quei vissuti emotivi che il bambino va ad esperire al di fuori del contesto di musicoterapia e che in questo spazio in questo tempo possono emergere possono essere davvero disegnati questi panorami interiori sul foglio bianco che il nostro incontro propone ma nello stesso tempo anche elaborati con la guida e l'ausilio di un terapeuta quindi abbiamo avuto la possibilità di constatare come spesso noi terapeuti abbiamo anche il compito di guidare il genitore nella scelta dei percorsi migliori per i propri bambini in questo caso passare dalla musica intesa come materia insegnata la musica intesa come forma di terapia proprio perché noi conosciamo le reali possibilità della nostra disciplina e abbiamo il compito abbiamo il dovere di informare chi da queste possibilità potrebbe trarne giovamento io ti ringrazio per avermi sin qui ascoltata dimmi nei commenti se vuoi un approfondimento a tutto ciò e ti aspetto al prossimo contenuto